Musica Come vi ho appena detto, questa sera è una serata importante dall'Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana perché c'è una collaborazione forte e visiva con Linea Rosa Ravenna con le pari opportunità del Comune di Cervia e con lo sportello Donna stasera questa è una serata particolare che l'Associazione organizza davvero da 10 anni perché vogliamo darvi un segnale su questo tema, sulle donne, sul rispetto, sui valori su tutte le cose positive che sia gli uomini ma anche le donne dobbiamo fare e allora abbiamo già fatto questa iniziativa, in verità due o tre anni fa abbiamo apposto una mattonella, un mosaico, davvero bellissimo quello che vedrete, nella scuola Enrico Fermi di Pisignano poi però abbiamo pensato che in questo luogo e anche per quello che era successo a Cervia perché a Cervia quest'estate avevano rubato, rotto, non lo sappiamo, comunque un giorno siamo accorti che non c'era più una mattonella con quella bella rossa, rossa che era all'ingresso del Comune che è la casa di tutti, il Comune è la casa di tutti di una parte, dell'altra, non di tutti, giusto assessore e quindi un po' anche per quello l'Associazione di Provenzione Sociale allora noi vogliamo continuare a continuare in questo gesto e la vogliamo porre in questo luogo in accordo con l'assessore delle pari opportunità e con l'amministrazione abbiamo fatto questo gesto che è simbolico, che però vuole essere importante perché il valore che ha quella mattonella è il bene che dobbiamo alle donne, a tutte le donne allora abbiamo chiamato anche due ragazze di Cervia Volle perché ci vuole anche in questi momenti Anna, Presidente, vieni qua vicino, vieni qua, vieni, vieni, scusate voi è Presidente, c'è di zona, vieni qua vicino questo è il futuro, noi ormai siamo il passato e quindi questo deve essere un segnale importante che rimane qui a futuro memoria e soprattutto per comprendere il significato del progetto che in linea rosa con l'amministrazione comunale di Avenna e di Cervia ha voluto realizzare e noi cerchiamo con questi piccoli gesti di dare continuità, eh vale, tiriamo pure giù il drappo tirate forte, tirate forte, tirate forte vai, vai, vai vai, vai, vai oh, 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 oh e per noi avere questo simbolo vuol dire che riconosciamo in questa amministrazione un'amministrazione veramente amica delle donne e quindi è importante, è importante perché vuol dire che le politiche, le azioni, le attività che l'amministrazione mette in campo e ha messo in campo sono a sostegno delle donne e poi insomma e adesso ne parleremo in questa serata ok, allora ci riposizioniamo nella sala alla società della Francesca Fontana, è bellissima grazie 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 grazie